E sì, è arrivato il momento di un video serio, perché ieri ragazzi è successo veramente di tutto Marotta si è servito di interchannel per lanciare il suo disperato grido di aiuto per attacchi di fuochi incrociati facendo la metafora della lepre, del codiglietto, dell'agnellino, del cacciatore eccetera eccetera eccetera, riportiamo tutti al proprio posto e cerchiamo di essere obiettivi perché da tifosi è veramente difficile essere obiettivi, lo capisco, dato che il calcio non è solo uno sport di testa a me coinvolge anche sentimenti, cuore, quindi in determinate circostanze è veramente difficile esserlo ovviamente, ovviamente non ci sarà solo Inter in questo video perché parleremo anche delle ultime news di calcio a mercato inerenti al mondo Milan, quindi mi raccomando, pollice, attenzione che al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche, tutto gratis, soffro io, raggiungiamo le 2000 capocce nel minore tempo possibile mi raccomando ragazzi, iscrivetevi perché YouTube mi dice tutto, molti di voi guardano i miei video e non sono iscritti non è giusto, non è giusto, non è giusto detto questo, allora, sta succedendo obiettivamente di tutto un'Inter accusata in più programmi di essere prima grazie a favori arbitrali di aver rubato più e più e più partite partiamo con una fondamentale premessa al di là del tifo, l'Inter è prima con merito? sì, assolutamente sì ha giocato il miglior calcio d'Italia fino a questo momento? sì, assolutamente sì quindi non andate a saltare il video interisti, vi prego, vedetelo tutto perché questa è la premessa fondamentale l'Inter è prima con merito ora, l'Inter è stata favorita quest'anno degli arbitri? sì ragazzi, sì, ma non lo dico io, lo dicono i capi della curva nord dell'Inter con il comunicato uscito questa mattina l'Inter nel computo, nella bilancia tra episodi pro ed episodi contro è pro di tanto alcuni siti parlano di 14 a 6, altri parlano di 13 episodi pro contro 4 contro però ragazzi miei, è chiaro che l'Inter in una bilancia è stata favorita ovviamente, e questa è l'altra premessa non è malafede ragazzi perché se io credessi anche solo per un istante che sia stato già tutto deciso a tavolino smetterei di seguire il calcio se io continuasse a guardare uno sport con malafede allora sarei un emerito coglione così come tutti voi, no? in qualche modo andrei contro la mia e la vostra intelligenza no, io credo che sia tutto una questione di rapporti ragazzi Marotta è un dirigente, lo definiscono l'ultimo vero padrino del calcio italiano alludendo un po' alla mafia ma è un dirigente che allena, tra virgolette, dirige squadre in Serie A da tantissimo tempo quindi, comunque sia, da tanto tempo all'interno della Lega Calcio da tanto tempo in qualche modo intrattiene rapporti con esponenti degli arbitri designatori, eccetera, eccetera, eccetera e quindi è normale che ci possa essere un po' più di sudditanza psicologica è chiaro ed evidente anche guardando, lasciando stare gli episodi ma guardando anche i cartellini gialli dell'Inter ragazzi l'Inter ha fatto gli stessi falli della Juventus ossia un terzo in meno dei cartellini è qualcosa che non sta né in giro né in terra anche perché non è che non abbiamo gli occhi abbiamo visto anche nell'ultima partita con il Verona l'arbitro, inspiegabilmente, no? non ammonisce Barella dopo che Barella si lamenta alzando la voce, scagliando la panna al di fuori dello stadio quello da codice e ammonizione mi ricordo l'anno scorso l'espulsione che diedero ad Ibra per non aver detto un cazzo all'arbitro aver detto cazzo fischi, rosso quindi c'è disparità di giudizio e questa disparità secondo me deriva dal fatto che il Milan di contro paga un peso politico ormai inesistente perché la proprietà è nuova perché i dirigenti non ci sono mai perché Furlani non lo conosce nessuno perché Moncada è uno scout perché Cardinale non esiste mentre in passato si poteva avere un po' più di osservazione in merito ragazzi i dati sono quelli cioè non si possono cambiare quando si vanno ad analizzare determinati episodi è chiaro ed evidente che l'Inter fino a questo momento dell'anno è stata favorita ma così come l'anno dello scudetto del Milan che gli interisti fanno passare come un regalo da parte loro che il Milan non meritava quello scudetto la realtà dei fatti è che togliendo gli episodi clamorosi accaduti in quella stagione episodi per cui è stato inventato il VAR che il VAR doveva prevenire il Milan avrebbe avuto dai 4 ai 6 punti in più in base a come alcuni siti hanno interpretato gli episodi borderline e l'Inter addirittura avrebbe avuto qualche 4-5 punti in meno e non plus oltre è stato l'episodio clamoroso il contatto mi sembra sia stato Ranocchia Belotti con il Torino palla 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 così poi quest'anno dopo in VAR è stato analizzato l'audio del fallo a doppie mani di Bissek su Struttman quello ragazzi è un fallo sempre è un fallo da codice il codice dice spinta a doppie mani e fallo è fallo anche perché si vede pure l'entità è una spinta molto sostenuta Struttman che è un omaccione se ne va a fanculo senza simulare perché si vede che non sta simulando di nulla nell'audio da parte dei varissi e l'arbitro si vedono più persone dire quello è fallo, quello è fallo, quello è fallo e spiegabilmente il gol viene concesso quindi è inevitabile e bisogna essere onesti perché ripeto la premessa del video l'Inter è prima con merito anche gli stessi capi della curva nord dell'Inter stanno mettendo questo che è arrivato alla 19esima giornata inevitabilmente indiscutibilmente l'Inter ha avuto più episodi pro che contro addirittura si parla del doppio quindi capite bene che ok ora speriamo che la situazione da qui in avanti possa ritornare alla normalità io ritengo sia difficile che l'Inter possa avere un girone di ritorno dove gli episodi andranno ad appararsi però comunque sia ragazzi un po' meno di così anche meno perché così ragazzi sta succedendo di tutto ogni giornata c'è un episodio pro Inter ogni giornata si parla di 13 episodi su 19 partite l'Inter molte di queste le avrebbe comunque vinte perché è forte perché è la squadra che gioca meglio al calcio questa è stata la premessa fondamentale però è importante perché col VAR le polemiche aumentano perché un tempo magari non avevi la possibilità di tutte queste telecamere però ragazzi miei adesso quando ci sono spinte a due mani quando ci sono trattenute mi riferisco a Lautaro con lo Botka il fallo di Cerbisosimène ce ne sono state tante Lautaro che trattiene Paolo Mino con l'Atalanta in quella partita l'Inter ebbe pure un episodio contro per carità diciamo tutte le cose come stanno però ci sono state cose clamorose che il VAR è assolutamente assolutamente stato inventato proprio per evitare questo per evitare questo schifo perché inevitabilmente le polemiche poi aumentano non diminuiscono soprattutto con l'ausilio della tecnologia quindi chiudiamo il discorso Inter spero sia stato un discorso chiaro ed evidente l'Inter è prima con merito sì l'Inter gioca il miglior calcio sì l'Inter è stata favorita al netto degli episodi pro e contro sì chiudiamo qui passiamo al Milan ragazzi perché questo tentativo per Dragosin è stato in realtà confermato il Milan ci ha provato ci ha provato per Dragosin perché il Genoa vi ricordo che in estate voleva più riprese Colombo è interessatissimo a Colombo Girardino stravete per Colombo e il Milan ha provato ad inserire Colombo più una base cash per Dragosin la trattativa in realtà non è che non è decollata ma è stata lasciata in stand by anche dallo stesso Milan perché poi si è inserito il Bermone offrendo 30 il Tottenham ha aumentato lo stipendio da destinare al ragazzo più l'offerta al Genoa che prima era di 20 più 10 poi è passata a 25 più 5 comunque c'è una bagara attorno a questa Dragosin enorme il Milan abbiamo capito che comunque sia ci ha provato per Dragosin e ha totalmente cambiato al momento i piani e li sta cambiando in continuazione inizialmente voleva prendere di rassi col decreto crescita senza decreto crescita questo enorme importante budget perché si parla di circa 20 milioni originariamente destinato all'attaccante praticamente verrà spostato per un gran colpo in difesa dovesse crearsi l'opportunità cosa intendo per l'opportunità ovviamente non strapagare un calciatore ecco che il Milan ha lanciato i sondaggi e li perderà così neanche per un difensore italiano molto interessante ovvero buongiorno buongiorno difensore del Torino classe 99 roccioso mi ricorda molto lo definisco un po' lo screener italiano un po' più coordinato di screener ma a livello di contrasti di durezza si somigliano molto i due cosa dire il Milan cerca di capire la valutazione cerca soprattutto di capire se il Torino può essere interessato a qualche contropartita come Colombo come lo stesso Daniel Maldini per far abbassare il prezzo è ovvio che venisse confermata l'indiscrezione mi sembra sia di calciomercato.com secondo cui il Cairo per buongiorno vuole una cifra vicina ai 45 milioni capite bene capite bene che l'abbassare l'abolire il decreto crescita non è servito a una merita minchia perché se poi è questo questa è la valutazione che si dà a giocatori per qualche stagione buona solo perché sono italiani non ha senso io veramente mi vado a comprare il primo difensore francese o magrebbino che costa un terzo meno e assicura un rendimento paragonabile quindi capite bene che al momento il mercato del Milan è questo qui vuole assolutamente fare un colpo in difesa si parla sempre con insistenza di questo Brestier Moncada ha parlato durante l'ultima intervista di short list una short list in genere diciamo che comprende 3-4-9 io credo ci sia stato Dragosin non credo ci siano molte possibilità di vederlo al Milan ormai l'adattativa sembra ai titoli di goda col Tottenham ci sia buongiorno da capire se il Torino è interessato eventualmente a privarsi del suo capitano adesso io credo che ci possa essere Brestier è un altro nome che ancora non è completamente uscito si parla 0 di Kelly per l'estate si parla 0 del difensore del Tottenham scusate del Fulham dal nome impronunciabile classe mi sembra sia 96 o 97 difensore di quasi 2 metri però ragazzi capite che il Milan vuole durante il mercato di gennaio fare un acquisto importante possibilità all'attaccante ne do poche anche dalle parole di Moncada il Milan non può sempre andare sul mercato io vi ci sta facendo bene rientra Rocafor ci sarà Giroud è entrato nelle rotazioni di Chagatore e quindi magari Rocafor potrebbe essere un po' più considerato punta in determinate partite io credo che il Milan possa fare un'ulteriore sorpresa dopo Gabby Terracciano a centro campo oltre questo fantomatico difensore qualora partisse Kruic ieri c'è stato un interesse forte per Kruic dello Zeite San Pietroburgo il Fenerbahce non offre più di 4 il Milan vuole 6 ed è irremovibile dai 6 anche perché vuole in qualche modo coprire l'acquisto di Terracciano solo con la cessione di Kruic in quel caso ragazzi potrebbe anche esserci un ulteriore cambio di piani cioè magari prendere un difensore un po' a meno a 7-8 milioni e destinare 20 milioni per provare a prendere il centrocampista top come per esempio Ricci come per esempio non so insomma un altro centrocampista per sostituire al meglio Kruic e soprattutto Berasser in Coppa d'Africa fatemi sapere assolutamente come credete possa evolversi il mercato del Milan in questo mese di gennaio assolutamente fatemi sapere anche voi interisti cosa ne pensate delle mie parole in merito alla situazione attuale della lepre Inter pollice attenzione che il video iscrivetevi al canale ci vediamo domani con un nuovo contenuto bella raga sempre solo forza mila daia grazie Grazie.